Sono Enrietti, Piero, detto Peter per gli amici e sono, diciamo, esperto delle miniature. Da quando ho saputo il tema della mostra concorso che erano i forni ho subito pensato Champorché, anche perché è vicino a dove abito. Una volta ho scelto il forno, sono salito su con un mio amico, che è un fotografo, un po' geometra, fare delle foto e prendere delle misure per realizzare l'opera. Ho trovato la scala giusta, così mi sono messo al lavoro da trovare le pietre, le lose e il legno. Per me sono molto importanti i dettagli, anche delle parti del forno che non si vedono.